Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuovo tutorial, questa volta ritorno a parlare ad inizio video, così da spiegarvi meglio il tutto. Oggi andremo a fare questa creazione qui, è una commissione. Dato che non conosco il personaggio, qui vi metterò la foto. E niente, ha voluto proprio lo stesso vestito, gli stessi capelli, insomma, l'ha voluta identica. Ovviamente l'ho fatta sempre a mio stile, non ho potuto realizzarla più realistica, però spero che vi piaccia comunque. Come potete notare ho utilizzato davvero pochissimi colori. Infatti come paste polimeriche ho utilizzato il color carne che è qui dentro e mi attacca tantissimo aprirlo, comunque quello della Super School Pay. Ho utilizzato come base del cameo, questa qui trasparentina con tutti i glitter. E questa qui è della Premo, se non sbaglio sì, ed è effetto opal. Poi ho utilizzato per i capelli il marrone, per la giacchettina e i vari dettagli del viso il nero, per la bocca il rosso. Per il vestitino invece ho utilizzato il verde che ho realizzato io, proprio la stessa tonalità del vestito che avete visto in foto. E come base su cui lavorare ho utilizzato questo cameo color bronzo. Io mi ci trovo benissimo con questi camei, ne ho veramente di tanti tipi e soprattutto queste decorazioni sono davvero bellissime. Praticamente il ciondolo è pronto anche con solo la bambolina e nient'altro perché già fa il suo effetto la cornice. E niente ragazzi, questo è tutto. Io spero tantissimo che questo video vi piaccia, che vi sia utile e che appreziate il fatto che sia ritornata a parlare. Perché molti di voi mi hanno chiesto di fare video in cui parlo, in cui spiego. Quindi spero che vi faccia piacere. Come sempre, se vi va mettete un pollicino in su, se non siete iscritti e se vi va di vedere i prossimi video iscrivetevi. Se non volete perdere nessun video, attivate la campanellina e se volete potete seguirmi anche nel mio secondo canale. Giù nell'info box troverete tutte le informazioni. Vi mando un grande bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.